STRAIN! Win 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 win! Yeah! F*** damn it! Un well green! Un well green! Un well green! Un well green! Ciao! L'hanno qui stesso! Dove qua entri, ti guardi per i codenti! Mi ho trovato una carta, una carta! Anche io! Nooo! L'hanno aperto gli altri bro! Io non c'ho nessun altro! Ahah! Grande! Ah mo! Stai arrivando uno da lì! Mora! Mora! Ecco uno! Ecco uno! Ecco uno! Ecco uno! Guardi all'altra! C'è niente quello! E che ti incontri così! C'è un altro! Wow! 144! Morto morto! Ehi! No no no! C'è un altro! Eh lo so! Un attimo! Lo piccolo a questo! Non c'ho munizioni! Se non prendo le munizioni di questo! Non c'è un cazzo! Vai lo prego! Ah mo! Non c'è tanto di... Sì! Tocchete in buono! Ah sì sì! Li vedo! Si si! Li vedo! Si si! Guardi! Via a destra! Quello sta mettendo lì fra te! Sì! 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 Vabbè roba da più! La città! Sì! Sì! Raga! Oh! La mia bomba! T'ha preso! T'ha preso? Tieni! Dove stai? Ma eh! No non posso! Io l'ho aperto! Amsterdam! Amsterdam! L'ha ammazzato! No! Mi do fuoco qua! Dove sta? Non lo so! Vabbè da me? Io qua! Da me! Oh! Li salviamo o no? Mi prendete la scheda, per favore! Te l'ha preso un attimo! T'ha dato la mano! Sergio! Cascato! 33! Non c'ho produzione! Non c'ha lama! Non c'ha lama! Non c'ha lama! Pocei! Io se lo so! E sotto! E sotto! Lo faccio palaia! Lo faccio palaio! Aspettate! Come ballaio! Come ballaio! Come ballaio! Ballerino! Sono qua! E lo presenta! Era! ESA! Come ballaio! ESA! A presto! aspetta che c'ho anche il pesce blu vedi? ce l'ho io da dove? 23 23 ho una allo tenere l'ho preso 28 no, sopra l'angelo ho due no 33 bianco manca un col e basta aspetto solo anche io sono la più importante ma io voglio guardare gli altri crannabetti non voglio guardare ho sentito qualcuno eccolo la 50 50 no solo 50 c'è un altro dietro di me è bravo quello dietro dietro raga dietro manca dietro è bravo è bella che co che co de cosa hai 100 o 400 mazza è bella è bella sono è Ciao